Io frago a Brizze e Tarenas, Barner Europe. Questo cos'è? I streamer di LOL con più spettatori? Non hai salutato sto giro? C'è ancora in tempo. Ma c'è qualcuno mai che ti ha esposto back? A volte anche in quattro rispondo. Ti senti meglio dopo aver risultato il tuo compagno di squadra? Ma chi? Fischello? Quando mi hai insultato Paolo? Eh, non me ne sono accorto. C'è qualcosa che non so? Mi devi... Una piccola riunione in game room, c'è stata? Ci facciamo una piccola riunione. Ah, Frago l'ha insultato. Mi succede così spesso che non mi rendo nemmeno conto. A me non voglio... Devo far spiccare, è il Giangelo che mi sta chiedendo. Non me la sento onestamente. Non sono gli stessi di prima, vostri. Beh, è... Suspicious. È Kaisa scarsa contro Caitlyn, no? Kaisa fa abbastanza schifo in 2Gate. Allora Paolo, posso giocare Bagus? O posso anche Cerca Lista? Ezreal? Fai tu. Può andare tutto, comunque, per quanto mi guarda. Gioca la cosa che ritieni più solido. Ti serve tu a fronte, però. Se vuoi surf, surfing. Nauti, cioè, engage per me va bene. Se no... Se no non ci sta così. Vai. Comunque ho scoperto un sito, cioè non è che è una grande scoperta. Pornhub. No, meglio. Che ti fa scoprire quali sono stati gli ultimi dodge nel server. Quindi riesci a capire la persona che ha doggiato l'ultimo game. È strautile sta cosa. Perché è utile? Solo per vedere se quei falliti che dicono che interranno poi alla fine doggiano loro. Quella è la cosa più divertente di tutto. Esatto. Ah, ok. Giusto per... È uno sfizio. Oppure anche se qualcuno comincia a scrivere le robe in chat, eccetera, eccetera, riesce a forse a risadire a lui. Il per niente è rancoroso Pischello. Io potrei... No, vabbè, buggerà è fine. Non mi piacciono ste draft, ma... Che gli manca? No, no, ma in generale non c'è... Avete pochissima fronte, è una parte Orn, sì. Orn, bashta e avanza. Poi Orn e Seraphine è super lineare. Seraphine e Ezreal è super lineare. Avrebbero un sacco di range. Anche se non vorrei che loro non avessero di più con Luxgate. Perché hai preso Seraphine? Mi piace con Ezreal. Ma Karma era... Faceva schifo, scusami. No, ma Karma è molto più debole come pick. Beh, diciamo che entrambi non è che siano proprio in meta, ecco. Però... Sì, però è debole come pick, ma la sai usare meglio di Seraphine, dai. Ah, mi ha visto il mio Seraphine. È God Deer. Forse due volte l'ho vista. Eh, anche io. Eh, ok. Eh, ok. Però giustamente giochiamo per perdere, quindi ci può stare, dai. No, ma sai che fine fine? In Luxgate... Noi siamo super safe, bot. Noi non riescono a pusciare la torre. Siamo... Siamo giga chill. Poi dovrà arrivare il momento in cui Paolo esce dalla comfort zone, no? No, infatti. Però queste cose si dovrebbero fare in off-season. Se vuole proprio fare il pro. Questo è il ragionamento da coach che... Ma sei alla fine giù nella pool. Ma dove? Nella pool. Nella swimming pool. No, vabbè. Ma in realtà off-season sì, ma quello che secondo me serve è uno smurf. Cioè, giocare dal main champion... Cioè, almeno, io non riesco. Giocarei a champ mai giocati. Poi vabbè, da di care è diverso, però... Non c'è te quello. Comunque Paolo gioca meglio quando lo provo così vedrai che adesso fa meno. Il livello 2 lo prendiamo comunque, no? Può contestare. Anche lei, a me non la vuoi, va bene. Al 2 posso andare? Posso fuggere anche io. No, la cu. Nice. Mocchiamo solamente Katyn se è possibile. Sì. Chiari sei invaso, comunque. Vogliamo fuggere un'altra? Mi possiamo dare pari con lui. Ok, là è solo. Rumble è bot side, la loro giungla. Lo vedo. Possiamo pushare e andare. Ok, ti è costato. Quale è questo? Vado? Fletcio. Non c'è l'abili... Vabbè, scusate, non volevo criticarti. Ah, ho bug. Io ho l'abiliità breve. Ma io sempre. Che sega! Beh, ecco. Nice. Ma lo avrei facciato solamente per... Per come cazzo si chiama? Eh, ma io bisogno... Sì, sì, ho capito. Però ho bisogno proprio di... Di andare gli dips, no? Perché... Che andassimo per la prima. Still good, still good. Che si builda? Non lo so. E lei, penso. Allora, coach? Eh, non sono... Guarda, non posso dire niente, perché qua c'è della qualità sopraffina. Sopraffina. Leggiamo o no questa abilità? È uscita dalla swimming pool, Seraphine. È nella pool normale. Occhio a lei, è di lux. I'm fine. I questi vigni non li prenderò mai comunque. Ok, io posso andare sempre. Ti guardo. Vai. Ho la W. Non è sì quello che vinciamo. No, no, è W. Lo slow? Sì. Cioè, è peggio? Io poi, ma quanto cazzo siete forti, porco due. A me, ma gli avversari sono imbarzanti. Sì, sono... Ho capito io. Prenditi un po' di meriti e stai zitto un attimo. Prenditi un... Festeggami. Ma la cosa bella è che... Festeggami tanto. Io ho detto a mia mamma una settimana fa prenditi il complimento e stai zitto. Io ho detto... Allora, va tutto bene, ma sono scarsi. Va tutto male. Sono scarso e allora non va mai bene un cazzo. È vero, è vero. È vero. Guarda lei. Aghipano, aghipano. Qui sono molto male loro. Io non muoio mai, comunque, lo che non mi hanno andato dando. Madonna mia. Oioioioi. Se gli tassi uno schiccio sarebbe più facile giocare insieme. Io o te. Li stop, eh. Tu, tu. Io li prendo, coglione. Scusate, sono il doppio pilare di te. Scusami. Occhio, 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 occhio. Così, tu scusami, sei o il doppio pilare di te? No, no, no. I tuoi skillshots sono il doppio pilare di te. Scusami. Sì, ma non è una scusa, dai. Prendiamoci skillshots. Facciamo chi ne ti credo di meno, così ho menor possibilità di mi stacchi. Sì, non devi per prenderlo. Io sono vivo. Guarda che ci muori qua, eh. Oh, c'è troia. Non hai mano. Qua la muore, eh. Mi giro e faccio Q. Allora, W, non muori. Ho anche la IAL. Incredibile. Ma perché ora ti sei fissato che li missi, coglione? Ma cosa? Ma hai visto come ha aggiunto quella? Sì, sei intanto nel mood della soglia, là. Va bene, allora diventerò... Oh. E adesso? Alla ulti, lei. Non dobbiamo giocare. Io e Rely. Rely è il mio 2748. Sembra un monback per un support. Sì, sì. Non è male. Porca troia, no? Non è male. 1800 di gold, qua. Bam. Ma come si builda Seraphine? Così. Allora, diccelo. Così... Da un redaction farò e posso fare zone. Così vuol dire full AP? Sì. Credo. Puoi farti bravo la muston. Ma poi c'è da dire anche che è il primo game del giorno e sta giocando Ezreal. Cioè, proprio... Ma... Oh. Sti cazzi si fa cacare. Però non fare cacare. Cioè, capito? Beh, non mi sembra che abbia fatto cacare. Infatti, dai. Non è che ha fatto cacare. Ma adesso non c'è bisogno che piangi, pischella. A me va bene, vuoi se fai cacare. Oddio, muoio. Ma questo gioca a support, non l'hai capito? Gioca a Blitzcrank che... Quando hit a un grab sembra che... Boh, ha vinto il super che è all'otto. Non c'era finito tutto, infatti. Oh, oh! Eh, oh, oh, io non credi qua, eh. Oh, questa? Eh, vi siete un po' splittati qua. Poca comunicazione. Io finito il mano. Non è possibile. Ma che game è, ragazzi? Ma che merda! Ma quanto sono sceso di elo? Ma è una cosa improbabile. Ma guarda che 400 LP e penso sia il peggio del peggio del peggio del peggio. Guarda che l'arina! Ma cosa sto vedendo? Welcome to dig. Beh, come primo game del giorno, almeno il morale è alto. Poi dopo arriva... Arriva quest, arriva la bot. Io vabbè, ora sto giocando per perdere, però... Ma era anche all'inizio, no? Sì, tuttora. Ok. Hai avuto paura che cambiasse qualcosa nel mio atteggiamento? Iniziai se tirai dritto Midlane. Pa, 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 Paolo! Non penso sia legale cliccare ripetutamente Midlane. Anche Orianna comunque è imbarazzante. Ma anche Serapin? Serapin sono io, mi sa che hai sbagliato nome. Devi aver cliccato il nome sbagliato nel tuo cervello. Ti seguo anche il tuo scudo per questa tua performance. Poi hai messato tutto. Non è che hai hitato qualcosa. E vabbè, ma perché mi hai fatto innervosire adesso? Oh, ma se io li voglio prendere, li prendo. Sono incredibili. Vabbè, ignorati. Vabbè. Ecco, io... Ho fatto fragola. Come va, Gabbiano? Dovremmo avere un nuovo saluto. Come va, Gabbiano? Mi piace. Come va, Gabbiano? Aprite la bocca, aprite questo game. Ci snapperiamo. Ci snapperiamo. Ci fai vincere la partita? Ma noi siamo troppo low su questi account comunque. Cioè qua abbiamo incontrato, penso... Mamma mia, una delle cose più tristi della mia vita. Eh, la loro bot sta guardando, stavo snicciando un po'. Mamma mia, se no faker e perks. Eh, per se a cazzo. Ti sei guadagnato un altro scudo per il tuo... Un altro? Ogni volta che hit una cuo voglio uno scudo. È calda la Serafina, quindi laggiù stiamo giocando. Eh, lo sai che posso aiutare qua? Vincite, vicite, vicite, vicite. Bellissimo. Ma sai cosa apprezzo? Che ti sei fidato? Io vado da chitto, eh. Cioè non è che... L'avrebbe fatto anche Creon, sono sicuro. Sì. E uno adesso direbbe... Creon non sarebbe morto come un co***o però. Vero, vero, vero. Non sarebbe morto se qualcuno avessi hitato la ultima. Manca impegno da parte di Paolo Canone. Io invoco una game room. Oddio, il meme è andato sempre avanti con Kunk. Eh, va la portata avanti. Che poi è che tristezza, dovremmo avere una reunion room, no? Eh, esatto. A sto punto. Oh, guardalo, è matto. Ma... Toplane? Toplane, ce l'ha salutato. Senti, ma che ne dici di fare anche una call? Ma proprio... Per ridere. Guarda con le... Quale è tu? E giochiamo per Herald. Ok. Bravo Paolo Canone, ne capisci di macro? Mamma mia quanto sei scarso. Pure parli sei un co***o di merda. Ho visto giocare. Io capisco quali sono i suoi limiti, eh. Ma lui non l'accetta. Che non ha limiti. Bravo, Pragola. Alla W, alla W, vicino di ti prego. No. No, non è canno. Eh vabbè. Ma io giro muoio? Ma sti tizi comunque sono per i denti di un altro pianeta. Sembra di girare con dei chi è in PC, non sto scherzando. Sì. Dai raga, fate... Fate... L'Eerald. L'Eerald, dai. Scusami, papà. Non ce n'è. Sì. Ok, perché così lo stoppa. E' vicino di che culo? Guarda che... Guarda che... Mamma mia che scena il bo... Ma è incredibile. Guarda Orn. Guarda, mi sono tutto. Ma sai cosa mi ricorda? Ieri ho visto un video su TikTok di una ragazza che gioca a Yumi. Mentre cucina. Sì. L'hai visto anche tu? Sì. Ma quanto tempo passiamo sui cellulari di merda? No, io sono la sera, funzionatamente. Poi perché adesso tutto il giorno... Non lo tolto il cell. No. Oh. Oh. Ho la ulti. Eh, ma qui... Non lo so. Ho tutta la cosa. Guarda l'ulti. Bellissima. Stupend. Sto trollando. In questo momento. Sto giocando per perdere, ma andando nel senso più buono. Ok, ma... Cosa significa? Sto facendo cacare e basta. Giocare per perdere, perché non è per forza una cosa negativa. Per Paolo. Io non ho male. Io gioco. Sì, anch'io. Tenta che di Katarina... NARCA! Per poco. No! Se il team si fosse girato prima... Tu ti sa che si è giocato, Frago, no? Io sempre, per gli altri. Eh, è vero. È un po' tossico, Frago. Ho io in team, a proposito. Che bello. Ma stai giocando senza di noi? Eh, sì. Non può giocare all'MMR troppo alto, è troppo forte, Frago, la guy. Mamma mia quanto mi è integrato. Nonostante le sconfitte di EA, pensa, Paul Cannon. No, ma perché Paolo ha bisogno di un Nemesi e Frago... Sì, si so di essere la sua Nemesi. Io mi ricordo che una volta un cogliere in chat si fa... È la Nemesi perfetta. Sei più forte di Frago, com'è che c'è 500 lp in più e ho vinto come un toro, solo verso un cogliere in merda. E non mi ricordo manco di caer, mi ricordo solo che lo odiavo. Sbloccato il suo rispinto. Sì, ma nulla come Jizu, che Frago è un'unghia dell'odio che provo per Jizu. Com'è tutto questo odio? Mamma mia. Perché non può raggiungerlo, perché non può raggiungerlo. Ah. Non è quel il motivo. Sì, è quello. No, Jizu è strafossico. Sì, stop! Guarda che la febbre non ce l'ho più, posso urlare. Ah, sei guarito? Eh, ma non sto benissimo, comunque. Peccato, peccato. La febbre è guarito. Mi sto un po' nervosendo. Ma per cosa? Ma per questo game di merda! Ma scusa, ma puoi anche divertirti ogni tanto, no? Ma dovresti cercare di guidare i tuoi compagni con i ping, probabilmente. Stai pingando abbastanza. Quello lo faccio più di te, coglione, di sicuro. Non è difficile. Mi sembra veramente, non lo so, di essere... Alle medie? Sì. Eh, mi sa di sì. Non lo so, sì. Lo sei. Ah, ho sbagliato. In questi cosa fanno? Ci chiamiamo a partire le bot. Ma l'Erald possiamo anche metterlo in mid e finire. Prendiamo l'ingaggio con Orn. E' tratto filati in squadra, che non sei f***ato, ragazzi. Come andrà la mia rank? Trato filati. Ma sei riuscito a recuperare lo streak di ieri, Fra Noloft? Sì, sì, oggi sì. Non la possiamo prendere, mi sa. Oh, man. Ah, ol'è, ol'è. Beh anche a Catarina Devo dire Splend Uno dei game più brutti Che vi abbia mai visto Si prende anche questo ragazzi Si prende tutto E io voglio giocare a Challenger Molto Ti sembra uno che ha paura di perdere io Quanti l'hai preso Paolo? Ah 15 Devo venire sulla tua live per vederlo Devi aspettare che io li veda 22 Ok Com'è giusto per il meme che si rispetti Grazie a tutti